Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è domenica 22 maggio 2011 e sono circa le ore 9 del mattino. Chi era Marco Pannella? Sì, chi era Marco Pannella? Perché ormai non ne parlano più sui giornali, in televisione non esiste più Marco Pannella. Tant'è vero che egli è da diverso tempo ormai, da più di un mese mi pare, e in sciopero della fame, e non soltanto per la questione del regime carcerario, le nostre carceri, ma mica solo le nostre carceri, è in tutto il mondo è così, ma Marco Pannella opera in Italia e si interessa delle questioni italiane, e le sono sovraffolate le carceri italiane. Siccome andare in carcere avrebbe una funzione di recupero nelle intenzioni del legislatore, Marco Pannella dice che queste intenzioni del legislatore sono state eluse, e che ormai il carcere non è diventato più, forse non lo è mai stato, non è un luogo di recupero sociale di colui che ha violato la legge, ma è diventato un luogo di disperazione, e quindi ha iniziato il suo ennesimo sciopero della fame, ma ne parlano poco i nostri giornali, le nostre tv, di tutto si parla nei Tg, di tutto si parla nei Tg, e nazionali, e nei Tg, e di Silvio Berlusconi, di tutto, non si parla del digiuno di Marco Pannella, ma chi se ne frega di Marco Pannella, ma chi se ne frega, non ne parla nessuno, ma manco i Tg democratici, i Tg democratici, i Tg tra i di Bianca Bellinguer, anche Bianca Bellinguer, non lo sape niente del digiuno di Marco Pannella, niente, non esiste più in Italia Marco Pannella, per questo che il video è intitolato chi era Marco Pannella, e come dire, parliamo di una persona che una volta c'era, adesso non c'è più, eppure c'è, c'è sempre Marco Pannella, e sta già digiunando, mi pare che è un mesetto che digiuna 20 giorni, mi pare che si sta preparando a salire al colle assieme a una delegazione, per dire, tra l'altro per dire che si lamenta, perché i radicali, non solo Marco Pannella, ma tutti i radicali, non sono mai presenti in tv, nella graduatoria delle presenze, o non ci sono i radicali, o sono messi per ultimo, così come se non avessero fatto niente i radicali in Italia, allora vediamo un po' chi era questo Marco Pannella, è Mabonino, e via dicendo, sì, ci sono i radicali, quelli che sono rimasti fedeli a Marco Pannella, che li troviamo nel campo dal centro-sinistra, della sinistra, poi ci sono i radicali che si sono messi nel campo del centro-destra, però che i radicali siano nel centro-sinistra o nel centro-destra, ce l'hanno sempre le stesse idee relativamente ai diritti civili, capito? tanti giovani mi dicono, eh, ma quello lì è un radicale che sta col centro-destra, sì, ma state sicuri, cari amici, state sicuri che se un radicale sta col centro-destra, anche nel centro-destra porterà avanti la questione dei diritti civili, un radicale nel centro-destra fa da lievito, fa da lievito perché riesca meglio l'impasto, farà anche un po' di disturbo, farà un po' di disturbo un radicale nel centro-destra, perché un radicale è un radicale, un radicale, se no non è più un radicale, non solo cambia, cambia, diciamo così, luogo dove far politica, ma dice no non sono più un radicale, entro, che so, nella Lega, entro nel PDL, no, invece i radicali che vanno nel PDL continuano a essere radicali e continuano a portare avanti la politica dei diritti civili, e comunque Marco Pannella, Emma Bonino, e altri, Emma Bonino, lo sapete che è vicepresidente della Camera, però non li vuole più sentire, non ci sono più nei talk show, a nessuno piace Marco Pannella, non piace a nessuno in Italia, né a centro-destra, né a centro-sinistra, ma pensate che nel 2006, Silvio Berlusconi perse le elezioni, e andò al governo Romano Proti nel 2006, solo perché il centro-destra, in primis la Lega, non voleva sentir parlare dei radicali, e allora i radicali furono presi a fatica da Romano Proti, imbarcati da Romano Proti, e per questo motivo, Silvio Berlusconi nel 2006 perse le elezioni, andò al governo Romano Proti, che aveva pure nella sua compagine, aveva anche i radicali di Marco Pannella, e allora chi era Marco Pannella? Ma chi era? Diciamolo ai giovani, perché l'età d'oro dei radicali, fu dal 1965 al 1980-85, fu in quel ventennio lì, dal 65 grosso modo all'85, grosso modo, poi ne hanno fatti ancora tante di cose interessanti, radicali, ma però il loro, diciamo così, il loro ventennio di fuoco, fu tra il 65 e l'85, ma allora la maggior parte di voi non era ancora nata, cari amici, oppure se eravate nati, avevate 5 anni o 10 anni, mica vi interessavate ancora dalla politica, capito? Sono pochi quelli che mi stanno seguendo, qua, che mi stanno seguendo su web, sono pochi pochi, quelli che hanno vissuto la grande stagione radicale, che va dal 1965 al 1985, poi dopo ha continuato, ma il grosso è stato fatto tra il 65 e l'85, e adesso tanti giovani, per esempio parlano del divorzio, parlano del divorzio, è come se in Italia ci fosse sempre stato il divorzio, così c'è il divorzio, mica lo sanno tanti giovani, ma forse la maggior parte dei giovani, mica lo sanno che il divorzio in Italia è stato portato dai radicali, da Marco Pannella, e poi da una più ampia coalizione, che ha aiutato Marco Pannella, ma mi pare che fu introdotto nel 74, o nel 70, l'Italia si spaccò in due parti, e tanti giovanotti che seguono le cronache, qua del momento, dicono che l'Italia è spaccata in due, da una parte ci stanno i berlusconiani, e da un'altra parte ci stanno gli anti-berlusconiani, e ma non lo sanno questi cari, questi cari ragazzi, bisogna conoscere la storia, anche la storia delle vicende politiche, per valutare quello che avviene oggi, non lo sanno che tra il 73 e il 74 l'Italia fu spaccata in due, da una parte i divorzisti, e dall'altra parte gli anti-divorzisti, proprio letteralmente spaccata in due, capito? Ci fu un referendum, ci fu per introdurre il divorzio nell'Italia, un grande referendum, e poi con tanta fatica fu introdotto il divorzio, ma la molla, la molla, fu Marco Pannella, capito? i radicali, ma pensate che neanche il Partito Comunista Italiano, non so se allora ci fosse, mi pare Enrico Berlinguer, non ricordo bene chi fosse il segretario del Partito Comunista, gli dicevano, ma il divorzio non è una priorità, gli operai hanno altro cui pensare che al divorzio, il divorzio è una cosa dei borghesi, e vabbè, ma intanto c'era in tutte le nazioni democratiche dell'Europa, c'era negli Stati Uniti il divorzio, c'erano tanti posti il divorzio, e anche negli altri paesi c'era la classe operaia, solo in Italia non c'era il divorzio, capito? Per cui non potevi divorziare, quindi non ti potevi risposare, tutte le cose si facevano così, tutto di nascosto, e se uno, potevi fare la separazione legale, ma separazione legale non significava divorzio, se uno aveva fatto la separazione legale, era sempre sposato, capito? Sempre sposato, perché lui non poteva fare un altro matrimonio, e oggi vedete bene che pure gli operai, tanti operai sono divorziati e si risposano, sì, oggi ci sono tante famiglie di fatto, vie di seguito, però insomma, quando Panella fece la grande battaglia per introdurre il divorzio in Italia, il divorzio c'era un po' dappertutto, c'era, e poi dopo 4-5 anni, che ti fa? Marco Panella con i radicali, e poi con quelli che piano piano si unirono ai radicali, e non ti introduce l'aborto d'estato? Uh, che brutta cosa che è l'aborto d'estato, ma io vi ho sempre ricordato quello che dicevano i gesuiti, ed in primis il fondatore della compagnia di Gesù, Sant'Ignazio di Loyola, quello che scrisse gli esercizi spirituali, potentissimi gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, e tant'è vero che affascinarono pure Heinrich Himmler, il capo delle SS, e Heinrich Himmler pretendeva che tutti coloro che entravano nelle SS imparassero molto bene gli esercizi spirituali, dove c'è scritto che l'ubbidienza deve essere, l'ubbidienza ai superiori deve essere simul a cadavere, come un cadavere sotto missione completa, l'ubbidienza completa, però dissero pure un'altra cosa interessante i gesuiti, dissero, se non sei capace di raggiungere il bene, vabbè, non stare di fermo a un palato, cerca almeno di raggiungere il male minore, e se non sei capace di conseguire il bene, non deve essere un alibi perché tu stai lì a fare niente, cerca almeno di raggiungere il male minore, e allora il divorzio di Stato, Dio che brutta cosa il divorzio di Stato, però è il male minore, perché quando non c'era il divorzio di Stato, cioè il divorzio che puoi fare dentro gli ospedali dello Stato, e c'era lo stesso l'aborto, c'era lo stesso, solo che era un divorzio, era un aborto che si faceva de nascosto, capisce, capite, de nascosto si facevano, se le fai de nascosto le cose nessuno ha niente da dire, capito, e si facevano de nascosto, per cui le donne che dovevano abortire, ma no perché erano felici e contenti di abortire, ma perché c'era una triste necessità di abortire l'aborto, nessuna donna lo fa volentieri, capito, nessuna donna, nessuna donna, però, 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 delle volte lo si deve fare, delle volte, capito, e ci sono mille motivi per farlo l'aborto, ma pensate che quando non c'era l'aborto di Stato in Italia, l'aborto di Stato, se non altro per motivi terapeutici, c'era persino nella Grecia dei colonnelli, e c'era persino nella Spagna del caudillo Francisco Franco, pensate un po' voi, in quei due paesi, in Griscia e Spagna, erano due dittature, eppure era consentito l'aborto terapeutico in Italia, ma con l'aborto terapeutico era consentito, capito, e vabbè, allora, l'aborto di Stato è male minore, perché il male peggiore, è che la donna sia costretta a fare l'aborto, a proprie spese, e magari, siccome non c'è i soldi di andare da un ginecologo, ma dalla mammana, è a rischio della propria vita, capito, quindi l'aborto di Stato, non è una cosa bella, è una cosa necessaria, è il male minore, uh, come si divide l'Italia, cari, come si divise l'Italia, sapeste quante volte che l'Italia si è divisa, là nel Medioevo, ai tempi dei tanti leghieri, c'erano i guelfi, i chipellini, e vabbè, fascisti, antifascisti, comunisti, anticomunisti, berlusconiani, antiberlusconiani, abortisti, antiabortisti, perché prima, divorzisti, antidivorzisti, quasi sempre a metà, quasi sempre a metà, cari amici, quasi sempre a metà, e quello che ha provocato tutti questi, questo subbuglio, è sempre stato Marco Pannella, sempre Marco Pannella, è per questo che non lo può vedere quasi nessuno, perché voi giovani, il divorzio, un divorzio, e c'è il divorzio, ma non lo sapete mica che l'ha portato in Italia, Marco Pannella vuoi il divorzio, e se una signora, una signorina, ha la triste necessità di abortire, e può andare a abortire in un ospedale statale, senza spendere una lira, e ricorrendo anche ai cinecologi, mica lo sa che è stato Marco Pannella a portare l'aborto di Stato in Italia, e non si sa più niente, Pannella, e chi sarà mai sto Pannella qua? Chi era Marco Pannella? E ve lo sto dicendo Serafino Massoni, io l'ho vissuta tutta quella stagione, cari amici, c'è il grande ventennio che va dal 1965 al 1985, poi ha provato pure a fare un referendum per legalizzare le droghe, piuttosto che siano in mano la malavita le droghe, è meglio che siano in mano lo Stato, non vi pare? Non vi pare? E tanto lo Stato in mano ha già le sigarette e gli alcolici, tanto vale che ci abbia in mano pure le droghe, leggere e pesanti, e così la malavita se la va a prendere in quel posto, capito? Quando è lo Stato che gestisce la droga, è lo Stato che gestisce le sigarette e gli alcolici, i superalcolici, no, tanto vale che gestisca pure la droga, almeno i ragazzi quando vanno a comprare la droga di Stato spendono di meno e prendono una droga pura, sana, sana, non tagliata, tagliata perché la malavita la taglia, tagliare la droga vuol dire miscolare la droga buona con sostanze cattive, capito? Per cui voleva Marco Pannella che la droga fosse venduta dallo Stato, dice lo Stato che vende la droga, e beh lo Stato non bebbe già le sigarette, gli alcolici, i superalcolici, ma dove è il problema? Ma lo Stato non ha in mano le lotterie? E perché lo Stato ha in mano le lotterie? E' per impedire che le lotterie vadano in mano la malavita, è male minore, lo Stato lo sa, che se lui Stato non fa le lotterie tutte e tutte, ce ne sono un'infinità di lotterie, se non lo fa lui ci pensa la malavita a fare lotterie, già ci sono un po' di lotterie in mano alla malavita, benché ci siano le grandi lotterie dello Stato, male minore, è sempre questo, agire, 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 male minore, male minore, d'accordo? Prima che fosse introdotto il divorzio in Italia, la gente si separava lo stesso, e se il povero diavolo si voleva risposare, non era possibile, invece adesso è possibile, dove è il problema? E così con l'aborto, non è che Marco Pannella ha inventato l'aborto, non è che non ci fosse l'aborto prima di Marco Pannella, prima che facesse politica, c'era, ma quanti aborti che c'erano? C'erano gli aborti clandestini, male minore, l'aborto, è così, quella troca non è andata bene, perché sembra che al referendum non si sia superato il 50% degli aventi diritto al voto, va bene, anche se questa regola non c'è per le elezioni politiche, per le elezioni politiche con le quali mandiamo i politici in Parlamento, non mi pare che ci sia un minimo da superare, capito? Non mi pare, e voi informatevi e poi fatemelo sapere, sono furbi i politici, sono furbi, pensate che se ne fanno loro le leggi relative al loro stipendio, sono gli unici lavoratori dipendenti politici che se lo fanno loro il contratto del lavoro, pensate un po' quanto sono furbi, non ce l'ha fatta con la droga, poi aveva fatto pure mi pare un referendum dove voleva che i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati e ricevestero la busta paga piena, senza le ritenute alla fonte come si dice che i lavoratori dipendenti e privati devono essere trattati come tutti gli altri, come i lavoratori indipendenti. noi la busta paga gliela diamo piena e poi ci penseranno loro a fare i versamenti per pagare le tassi, per prepararsi la pensioncina e per il sistema sanitario, ci penseranno loro, no, non sono mica i lavoratori dipendenti, non sono mica dei minorati psichici, diamogliela la busta paga piena e poi ci penseranno loro come avviene negli Stati Uniti, tra l'altro negli Stati Uniti. E poi dopo ancora sempre grandi battaglie, sempre grandi battaglie, una delle ultime, sempre sulla base della spinta dei radicali, è stata la moratoria della pena di morte, la moratoria della pena di morte, che ha avuto un buon successo, sì, 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 dopo ai radicali si sono accodati anche tanti altri partiti, ma sono sempre i primi, sono sempre i primi loro, cari amici, sempre loro sono i primi, capito? Ecco chi era Marco Pannella e poi Emma Bonino, ma quanti di voi sanno che Emma Bonino conosce la lingua araba perché è andata ad abitare due o tre anni in Egitto? E perché voleva Emma Bonino che il Parlamento egiziano varasse una legge contro la clitoridectomia? Tacchete, la clitoridectomia? Tacchete! E quella forza sforbiciata con la quale in tante zone, diciamo così, tribali, con tribali, alle bambinette, tacchete, viene tagliato il o la clitoride e si tratta di una mutilazione irreversibile, la donna non gode più, niente godimento sessuale per la donna così impara, capito? E non mette le corna al marito perché non c'è più desiderio sessuale, non gode più, ce n'ha di meno di desiderio sessuale che furbi è. E poi dopo, infatti, dopo due o tre anni che era rimasta in Egitto, Emma Bonino, guarda caso, il Parlamento egiziano varò la legge che proibiva la clitoridectomia. E vabbè, ma quali altri partiti l'hanno fatta queste cose? E sì che sono quattro gatti radicali, non li può vedere nessuno, nessuno li può vedere. Ah, che mi dimenticava, mi dimenticava di questo grande referendum sul finanziamento pubblico dei partiti, pure lì, il là, pure lì, il là, l'hanno dato i radicali e ci riuscirono, tutti felici e contenti, gli italiani di andare a questo referendum che aboliva il finanziamento pubblico ai partiti, lo aboliva la maggioranza, gli italiani hanno detto niente finanziamento pubblico ai partiti che ci sono rimasti così male ai partiti, cari, ma siccome i partiti sono furbi, Dio quanto sono furbi i partiti, che hanno detto al popolo italiano non vuole il finanziamento pubblico ai partiti? E chi se ne frega? Noi la eliminiamo, la legge, sul finanziamento pubblico dei partiti e ne facciamo un'altra che la chiamiamo con un altro nome, la chiamiamo rimbucci elettorali e se voi andate a confrontare i due testi di legge, quello che era intitolato diciamo così finanziamento pubblico dei partiti e poi quello successivo diciamo così che è intitolato rimbucci elettorali, vedete che i partiti stanno molto meglio con i rimbucci elettorali che non con il finanziamento pubblico dei partiti e hanno scavalcato il referendum però il referendum era andato bene, il popolo aveva... Certo, lo dico sempre io, lo dico sempre, glielo dico sempre a Coso, lì a Nichi Vendola o a Beppe Grillo che se vogliono Palazzo Ghigi, anche a Nichi Vendola, Nichi Vendola, anche a Tonino Di Pietro e anche a Beppe Grillo, volete andare a Palazzo Ghigi? Fate un referendum, proclamate un referendum popolare affinché il popolo italiano stabilisca quale debba essere l'entità della busta paga dei parlamentari e di tutti i politici e compresi quelli delle regioni perché proprio ieri vi ho fatto il video della busta paga di Nichi Vendola, vi ho mostrato tutte le cartelle e tutta la documentazione dove salta fuori che Nichi Vendola che l'uomo politico più buono d'Italia, un grande poeta, è anche il governatore più pagato d'Italia. Beh, certo, se uno è buono deve essere pagato di più, sennò che cosa serve la sua bontà? Sì, vedete quante cose che ha fatto? Allora chi era Marco Pannella? Ve l'ha raccontato Serafino Massoni chi era Marco Pannella e adesso sta facendo un digiuno per i carcerati, capito? Sta facendo un digiuno per i carcerati, mi pare che digiuni perché vuole l'amnistia. Perché vuole l'amnistia? Dice, se lo Stato non può dare ai carcerati e diciamo quelle cose che sono previste dalla normativa e che prevedono il recupero del carcerato, se lo Stato non può garantire al carcerato il recupero alla società, uno non si può diciamo rieducare nelle celle sovraffollate magari dove ti viene voglia pure di suicidarti. E allora lo Stato li deve buttare fuori dal carcere, deve fare un'amnistia, ecco quel ragionamento. Lo so che non piace al popolo italiano questo ragionamento, vabbè ma mica è colpa di Marco Pannella se la situazione delle carceri in Italia, pura l'estero, in Italia è tale che c'è un sovraffollamento da suicidio, da suicidio, e mica è colpa di Marco Pannella se Nichi Vendola che è l'uomo più buono d'Italia pensa di più ai suoi 15.000 euro netti all'anno che non i carcerati. E che è colpa di Marco Pannella? Eh beh, se ci sono le spese della politica sarebbe sufficiente che i politici diminuissero le spese della politica? Io vorrei che le azzerassero, perché è possibile, lo diceva Pratone, se azzerassero le spese della politica uh, quante carceri che si potrebbero costruire in Italia. Provate a immaginare, voi a stare notti in una cella dice sì, è un colpevole, è un colpevole. Ma cari amici, si può essere colpevoli per tanti motivi, sapete, delle volte il delinquere diventa una triste necessità, cari amici, perché mica tutti nascono figli della famiglia Elkan che ora possiede la Fiat e i percorsi sono molto strani e si può finire in galera, ma la galera non deve essere un inferno, ho capito? E allora dici, se tu Stato non sei capace di garantire ai carcerati un minimo di dignità, perché se non c'è, tanto vale che vengano fucilati, no? E allora gli devi dare la libertà, gli fai una bella amnistia, però sta digiunando per avere queste cose, ricordatevelo però è che fu Marco Pannella a vincere il referendum che aboliva il finanziamento pubblico dei partiti e dopo ci hanno pensato i politici ad aggirare la volontà popolare e a tirare fuori dal cilindro la legge che si chiama e i rimborsi elettorali e quei rimborsi elettorali stanno meglio di prima, va bene? Mi raccomando, Nichi Vendola, mi raccomando, Torino Di Pietro, mi raccomando Beppe Grillo, mi raccomando, un bel referendum popolare affinché il popolo italiano possa stabilire l'entità delle pache dei parlamentari e se fosse per Platone non ci sarebbe manco bisogno di questo referendum perché Platone nel suo grande dialogo con la Repubblica dicevano che i politici non devono avere proprietà privata e neanche nessuna forma di paga, basta il rimborso delle spese di vitto alloggio e di viaggio sui mesi pubblici per cui c'è il mio video il mio video di me Serafino Massoni intitolato intitolato se io fossi in premier va bene cari amici ecco chi era chi era Marco Pannella ecco ecco non è ancora morto sta facendo l'ennesimo digiuno non è ancora morto ecco chi era Marco Pannella cari amici cari grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti